Da lunedì 21 rivedremo ruspe e movimento nel cantiere dell'ex mulino Albani lungo la nazionale nei pressi della stazione ferroviaria che dopo la rimozione delle macerie a seguito dell'abbattimento del rudere industriale del mulino era rimasto fermo in attesa di tutte le documentazioni necessarie per far partire la realizzazione della struttura prefabbricata dei parcheggi relativi. Nell'otto è compresa anche un'ulteriore opera urbanistica importante per la zona per la realizzazione di una rotonda necessaria a rendere più funzionale il nodo di scambio gomma treno della stazione dei bus adiacente. Adesso la situazione attuale stiamo già preparando i plinti per tutta la struttura prefabbricata che è un capannone di 2.000 metri e prima di Natale prevediamo di avere tutto il prefabbricato ultimato come struttura, poi altri 3-4 mesi per le finiture e nel giro di 8-9 mesi la realizzazione della rotatoria, pista ciclabile, marciapiedi e quant'altro per dare accesso poi alla nuova struttura. L'apertura di questo cantiere in questo sito industriale che per molti ha rappresentato e rappresenta una delle pagine della storia affanese si è portato dietro come era immaginabile fiumi di parole tra i nostalgici che volevano un recupero della struttura anziché la sua demolizione ma i presupposti e me non c'erano e chi invece desiderava che quell'edificio fatiscente con erbacce, muri cadenti, alcova di serpi e ratti smettesse di essere la cartolina d'ingresso della città considerando invece i benefici derivanti dalla realizzazione delle opere accessorie. Qui si tratta di un trasferimento di un'attività commerciale che è ora in una zona del tutto inadatta a quell'attività, parlo dell'aerospin in via del lavoro, via del lavoro dove le persone devono parcheggiare su per i muri praticamente perché da anni non c'è la disponibilità di parcheggi. Il trasferimento in questa zona darà modo di avere 140 posti auto pubblici che saranno non soltanto al servizio dell'attività commerciale ma essendo vicini alla stazione potranno essere anche a servizio di chi usufruisce del mezzo ferroviario. Una cosa ancora importante è che nello stesso tempo si qualificano due zone, questa a livello pubblico e via del lavoro che si libera da questo stress della situazione attuale.